santa giovanna d'arco chi era giovanna d'arco bruciata viva nel 1431 eroina nazionale francese venerata come santa dalla chiesa cattolica commento era una medium precoce come tutti i grandi medium la fedeltà della sua medianità alla francia preparò la fine della guerra dei cent'anni e la cacciata dell'onnipotente inghilterra dalla francia